Sequestrato e picchiato perché si era rifiutato di coltivare marijuana. E' quanto scoperto dai carabinieri che a Cagnano, Varano e Foggia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 32enne cagnanese, un cittadino di 23 anni del Senegal, con precedenti di polizia, accusati di estorsione aggravata, sequestro aggravato di persone, lessioni personali aggravate ed evasione commessi nel periodo agosto 2020-luglio 2021. Le indagini hanno preso il via dopo la segnalazione di un cittadino di Cagnano, Varano, che nel giugno scorso ha denunciato di essere stato vittima di estorsione da parte di due soggetti di quel paese, che minacciandolo gli chiedevano la consegna rateizzata di 3.000 euro, vantando nei suoi riguardi un pretestuoso debito dovuto alla perdita economica per il mancato rispetto della vittima di collaborarli in un loro progetto di coltivazione di piante di marijuana. I due, per indurre la vittima a pagare la somma, nella primavera scorsa l'avevano sequestrata all'interno di una cantina del 32enne dove, minacciandola con un fucile, l'avrebbero colpita più volte con un bastone, pugni e calci. Inoltre, dopo aver stretto una corda al collo, gli hanno tolto anche il telefono cellulare per non consentirle di chiedere aiuto. La vittima, spaventata, nel periodo seguente ha consegnato i due le prime 200 euro, rendendosi conto però che l'unica strada per poter uscire da quell'incubo era denunciare. A giugno scorso, così, i militari hanno arrestato in flagranza lo straniero 23enne mentre riceveva, indebitamente dalla vittima, 150 euro. L'attività investigativa successiva ha consentito di raccogliere indizi di colpevolezza anche nei confronti del 32enne, che è il risultato dunque attivamente responsabile dei delitti, in concorso con lo straniero.